Siamo molto contenti della notizia perché almeno sappiamo che uno perlomeno è stato preso. Grazie al biscotto che lui scappando ha perso l'hanno incastrato. Un biscotto a forma di teschio Halloween vicina avrebbe lasciato lì la sua impronta al tunisino quarantenne accusato di 4 delle 37 spaccate messe a segno in tre mesi a Padova. Di sicuro sarebbe stato qui nel panificio e pasticceria di via Zabarella dove la sua sfacciataggine gli avrebbe fatto compiere più di un passo falso. Lui resta in carcere ma i commercianti sono convinti. Non era da solo e penso che non sia finita qua ancora. Non è possibile tutte le notti signora fino a quando che tre mesi fa non è mai successo niente. Adesso tutto quanto su un attimo vuol dire che c'è qualcosa che non va. Sfrontati e senza alcun timore i malviventi che hanno colpito in città. Stefano Cappelletto, un furto a metà luglio nel suo negozio di Galleria Borromeo, al danno aveva dovuto aggiungere la beffa. Un paio di scarpe appena rubate le aveva viste il giorno dopo sfilare davanti alle sue vetrine indossate da uno straniero. Era una limited edition di Filim Model. Era appena stata consegnata, era il 15 luglio, la collezione invernale, non ce l'aveva ancora nessuno in giro ed era particolarissima. Era proprio una limite pochissime paia e il 41 ce l'aveva al piede lui. Sapevo anche il numero perché lui aveva già comprato un paio di scarpe da me e quindi sapevo che numero aveva al piede. Quindi lei si è sentito preso in giro? Quello sì, quello sì. Noi, io e anche i miei colleghi qua, perché io subito l'ho detto agli altri colleghi che infatti subito anche loro appena l'hanno visto passare hanno chiamato le forze dell'ordine, però adesso io non so se potranno dimostrare che è collegato in qualche maniera con questa persona, non lo so però... La paura resta, è palpabile. L'appello che arriva dai commercianti è uno, non abbassare la guardia. Non vogliamo che questa cosa venga dimenticata. Io non ne ho memoria di un massiccia attacco, passatemi il termine, agli esercizi pubblici della città. Quindi ci siamo sentiti scoperti, ci siamo sentiti deboli.